Una bella mostra qui all'Aberio, perché? Abbiamo fatto questa mostra scegliendo questo... no, non abbiamo fatto, abbiamo riproposto questa mostra del Comune di Campomorone in questa biblioteca perché è frequentata da giovani, studenti e dai loro insegnanti. Per riproporre un avvenimento, cioè la storia delle donne genovesi che hanno fatto questa... sono state partecipi di questa grande resistenza che è stata la resistenza a Genova. C'è un'attualità in questa mostra? Beh, c'è l'attualità perché le donne nella resistenza hanno guadagnato per noi l'emancipazione e la liberazione. Sono diventate cittadine attive e per ricordare alle ragazze di oggi, dove c'è il femminicidio, dove ogni giorno c'è, ogni tre giorni c'è una donna morta, che la liberazione della donna, i nostri diritti, sono cose che hanno conquistato le loro nonne, ma che non sono scontate.